Sport per tutti a lungomare Caracciolo è l'iniziativa promossa dall'assessorato allo sport e dalla UISP Comitato Regionale Campania che si svolgerà nei giorni 16, 23, 24 e 30 giugno. L'iniziativa, nata per promuovere la Carta di Toronto per l'attività fisica, vedrà l'allestimento di un villaggio che accoglierà tornei sportivi ed esibizioni come l'arrampicata sportiva da 8 metri, la Notte Bianca del Tennis, il Summer Basket 2012 e altri. L'evento ha soprattutto lo scopo di aggregare i cittadini napoletani in giornate all'insegna dello sport come strumento per la tutela della salute e della formazione della persona. Il programma completo può essere consultato sul sito www.wisp.it. Riteniamo che da Via Caracciolo possa partire il messaggio di una città sana, di un'amministrazione che tutela la salute dei cittadini, il viver sano, l'attività motoria e anche l'alimentazione. Chiunque nella città di Napoli abbia un paio di scarpette e un abbigliamento leggero può venire a lungomare Caracciolo e misurarsi con tutte le attività sportive che verranno presentate.